E' arrivato il momento del terzo ospite che si sta raggiungendo proprio in questo momento, è un cantautore, camminatore e contadino, passa la vita tra vigneti, palcoscenici e sentieri, autore del documentario Appenino Pop, un'indagine leggera appassionata su una parte di mondo da cui sono scappati quasi tutti, ma in realtà in questo momento assume proprio tutta la rilevanza di questo momento. Vediamo se è in collegamento, è arrivato e sto ovviamente parlando di Maurizio Carucci. Ciao a tutti, ciao a tutti. Sto cercando di mettermi a mio agio, non so se ci riuscirò. Tra l'altro ti vedo sia nello schermo che non... invece tolgo il computer, voilà. Perfetto. Voilà, 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 ci sono, mi vedete bene, mi sentite bene? Ti vediamo, io ti sento e ti vedo bene, vediamo se anche dal pubblico ti sentono e ti vedono bene, ce lo fanno sapere nei commenti. Molto bene, molto bene. Ottimo. Allora intanto grazie Maurizio per essere qui oggi con noi. Grazie a voi per avermi invitato. Ti ho già presentato appunto con questa tua vita che si divide tra palcoscenici e campagna, quindi con te proviamo a fare un po' un viaggio nel futuro di queste due tue anime, no? Sei impegnato infatti da anni nel valorizzare l'entroterra, quindi proprio quei luoghi in cui dicevo anche prima, in cui tutte le persone sembrano non voler più vivere nessuno, tutti sono andati via da questi luoghi. Durante questo lockdown invece in tanti si sono sentiti intrappolati nelle città e quindi c'è stato un po' questo ritorno un po' nostalgico quasi alla voglia di campagna. Tu che ci vivi dal 2002 nella tua Cascina Barban, che ci lavori, come vedi questa apparente nostalgia per questi luoghi che ci sono? Se ne sono andati tutti e adesso tutti sembrano volerci tornare. Ma io credo che ovviamente stiamo parlando di un momento dove fondamentalmente un po' ci troviamo nudi, no? Spogliati delle nostre possibilità, dei nostri paesaggi, delle nostre relazioni, per cui un momento molto delicato. dove forse è anche più facile arrivare un po' più a fondo rispetto alla propria persona, le proprie aspettative, visioni e volontà. E per cui secondo me ovviamente in tutto questo c'è anche una bella dose di fastidio, no? Perché spesso gente come me viene definita comunque estremamente visionario, coraggiosissimo, pazzo per tanti, un po' matto. E invece si scopre che in questo periodo forse tutta questa pazzia e follia in realtà si può tradurre anche in, come si può dire, saggezza, in lentezza, in un ritorno che a mio avviso conserva dentro di sé sicuramente delle buone chiavi. Non sono sicuro che siano le, ovviamente, anzi sono certo che non siano le uniche chiavi, no? Per fare delle cose buone, sia per noi che per la nostra comunità. Però sicuramente un ravvicinamento alla natura, no? Che questo termine che ormai è inflazionatissimo, quasi distrutto, cioè della natura ne parlano purtroppo un po' chiunque e anche in maniera a volte, come si può dire, strumentale, no? Vabbè, ma a parte questo direi che credo che appunto un avvicinamento alla campagna, cioè ai ritmi, no? Che ci hanno generato e che ci regolano ancora oggi, possa essere una scelta interessante, una scelta che può aiutare. Può aiutare anche appunto in questo momento di grandissima incertezza, ecco che la natura, le sue stagioni, i colori e i profumi stanno facendo il loro corso e ci stanno suggerendo che comunque molte risposte già ci sono e che comunque stiamo parlando di un'entità gigantesca, quasi una divinità che, insomma, che più che addomesticata, posseduta, andrebbe capita e soprattutto andrebbe, come si può dire, coinvolta nella propria vita in maniera più attiva e non soltanto come un posto in cui fare le proprie cose ma piuttosto come, appunto, un'entità con la quale confrontarsi e prendere spunto per le proprie azioni quotidiane. Anche perché abbiamo visto che tutto va avanti lo stesso e anzi, no? Nel senso che abbiamo visto la natura che comunque prosegue, gli animali che si riprendono nei propri spazi, quindi sicuramente anche quella è stata un'occasione di riflessione. Che possibilità possono dare, secondo te, la campagna, l'agricoltura e la produzione di vino naturale, cosa che ad esempio tu fai in futuro? Cosa hanno dato a te e che cosa possono dare, secondo te, in questo nuovo corso che avremo da qui a qualche mese, insomma, e nei prossimi anni probabilmente? Vabbè, sul vino, il vino è un essere talmente vasto, è multiforme, è impossibile da inquadrare che parlarne così per me è difficilissimo. A livello personale il vino per me è uno strumento, no? Anzi, direi quasi un mezzo di trasporto, grazie al quale si possono conoscere persone, territori e soprattutto grazie al quale uno può concretamente viaggiare, no? Infatti, tutto sommato, chi fa vino, ma anche chi lo beve, per me è un esploratore, no? Sempre se si beve ovviamente un vino che racconta un territorio, per cui un vino naturale. Per cui, insomma, diciamo che effettivamente il vino per un territorio appenninico come il mio è secondo me un buono strumento per raccontare un territorio, per farlo emergere, per valorizzarlo, anche grazie appunto a un lavoro, ad esempio, che stiamo facendo noi, ma non siamo ovviamente gli unici, ovvero di riscoperta di alcune vecchie varietà localissime, grazie alle quali appunto riusciamo a urlare a tutto il mondo che la Val Burbera esiste. Ci sono state centinaia, migliaia di persone che hanno fatto delle cose anche molto buone e per cui in un'epoca dove la globalizzazione impazza, per alcuni versi tragicamente, ecco che l'Appennino può dire la sua e dire esattamente il contrario, avere questa politica estremamente, come si può dire, antitetica al trend dell'oggi, no? Io in Appennino, come si può dire, siamo fondamentalmente dei, celebriamo la diversità e i piccoli territori, no? Che possono regalare grandi gioie, perché tutto sommato c'è anche un grande bisogno di godere nella vita e il vino, ad esempio, è un ottimo strumento per farlo e casualmente in Appennino può venire, secondo me, molto meglio rispetto ad altri posti. Per cui diciamo che a livello agricolo il vino è una possibilità anche per tirarsi su economicamente, perché in quanto prodotto trasformato ti permette anche di tirarci fuori qualche soldo in più. E a livello culturale, barra esistenziale, ti permette di raccontare un territorio, di scoprirlo, di fare parte di un qualcosa che cambia sempre, che è la biodiversità, e soprattutto, ecco mi è cascato il telefono, perché ho detto una belinata, come si dice da queste parti, e soprattutto ti dà la possibilità di finire la giornata e bere un buon bicchiere di vino con un amico, che rimane sempre una delle cose più interessanti che l'uomo possa fare. Poi, da me, stai parlando a dei Veneti, per cui ci capiamoci. Sono un dilettante, sono un dilettante. Esatto. In questi giorni hai condiviso alcune riflessioni su Facebook, sul fatto che tutti abbiamo un compito nel preservare la natura e il modo in cui viviamo, no? Sia che si viva come fai tu, nella campagna, che ci si impegni quotidianamente per preservare la biodiversità, le varietà antiche, sia per chi magari ha una vita diversa, ma può comunque fare qualcosa. Quali sanno, secondo te, le azioni sempre più importanti in futuro, che potrebbero diventare delle abitudini per tutti noi e che possono effettivamente fare la differenza? Ma, ovviamente, è una domanda estremamente complessa, tutt'altro che semplice, ma secondo me, quello che io mi limito a fare quando sono davanti a una questione molto grande, cerco di partire dall'inizio, so come dire, cerco di darmi un senso e di trovare un percorso e forse per noi l'inizio, uno degli inizi potrebbe essere il cibo, nel senso che tutti noi abbiamo bisogno di cibo, tutti noi ne consumiamo in abbondanza tutti i giorni e sappiamo benissimo quanto attorno al cibo giochino, come si può dire, delle dinamiche, dei pesi, delle situazioni estremamente rilevanti per il nostro pianeta. Per cui, secondo me, anche se poi ovviamente si tende sempre un po' a sminuire, perché uno dice ah, vado a fare la spesa, cambio il mondo, ma che stronzata è? In realtà no, in realtà no, non è una stronzata, anzi, è una cosa molto potente, perché pensate, cioè io quando, ovviamente quando penso a un'azione che compio, la penso sempre, penso sempre se venisse compiuta da tutti, no? Ecco, pensate se tutti comprassimo dai contadini, no? Ora sembra, ripeto, una roba già sentita, chilometro zero, Mauri che palle, eccetera. In realtà è una pratica estremamente potente, che può cambiare radicalmente, ok? Il nostro pianeta. E tutto sommato è abbastanza semplice, perché ormai anche in ogni città, no? Si può trovare il mercato contadino, si può trovare il gas, la bottega dei prodotti contadini, bio, insomma, per cui secondo me partire dal cibo non ci si sbaglia. Io non ho ricette, soluzioni, ho verità in tasca, però dico, se partiamo dal cibo probabilmente non ci stiamo sbagliando. Poi sicuramente ci sono tante altre cose, no? Legate, sempre magari legate ai consumi, ma anche legate alle pratiche. Noi per esempio, io vivo in un'azienda agricola che è un collettivo, per cui un collettivo di due famiglie con due bambini. E anche questo secondo me vuol dire in qualche modo evolversi, no? Cioè cercare sempre una mediazione con chi ha intorno, no? E per cui abbandonare un po' questo individualismo sfrenato che ci hanno farcito in ogni dove per ritornare a una dimensione più collettiva, no? Più di comune, di comunanza, per cui più di ascolto in sostanza. Per cui da una parte legate ai consumi, che ripeto, sicuramente sono un tema estremamente efficace e rapido anche per cambiare le cose, se non altro intanto le nostre, cioè le nostre vite individuali. E poi anche, porca miseria, mi casca sempre il telefono, e poi anche, anche appunto il ragionamento, no? Il come stare dentro questo mondo è molto importante per cambiare le cose. Questa estrema diffidenza, questa ricerca sempre dello straniero, no? straniero come diversità, come, oddio, come portatore di paura e di cambiamento che non vogliamo. Insomma, tutto questo, secondo me, sono tutte cose abbastanza alla portata di tutti, se non altro provarci, sono cose che tutti noi possiamo provare a fare, e che se effettivamente fossero praticate da tutti, diverrebbero degli strumenti potentissimi e molto efficaci. Ottimo, quindi noi prendiamo nota e speriamo che, appunto, in futuro riusciamo tutti quanti ad avere nel nostro piccolo, a fare anche, appunto, di avere nuove abitudini che ci permettano di avere uno stile di vita anche un po' più sostenibile. Parlando, invece, del tuo altro lavoro, no? Cioè, di cantautore e leader degli Exotago. Io ti ho visto molto spesso a concerti e ti ho sempre visto come un cantante molto fisico, no? Scendevi dal palco, abbracciavi le persone, ti buttavi proprio in mezzo al pubblico, premesso che ovviamente in questo momento nessuno di noi ha la sfera di cristallo e quindi non abbiamo modo di sapere come determinate attività riprenderanno, come potremmo farle. Però, tu, come vedi il futuro dei concerti, visto anche la difficile situazione in questo momento degli addetti ai lavori, tutto il reparto culturale di che organizza eventi live, come pensi che si possa ripartire? Vediamo se l'abbiamo perso. Ok, aspettiamo un attimo perché, eccolo. Ci sono, ci sono, ci sono. Scusatemi. Tranquillo, tranquillo. La connessione non è proprio delle migliori. È il bello della diretta, sappiamo che siamo in balia delle connessioni, quindi ci siamo, abbiamo già messo in conto che potrebbe succedere. Dimmi se hai sentito tutta la domanda, altrimenti te la rifaccio. Mi pare di aver capito tutto. Beh, io sinceramente non sono proprio la persona migliore, non mi sento sinceramente la persona migliore per poter rispondere a questa domanda. Nel mio piccolo, nel senso che io di fatto ho sempre fatto, come si può dire, il contadino da quando avevo vent'anni e la musica, che è sempre stata la mia grande passione, in questo ultimo periodo mi ha dato anche un po' da vivere ed è una cosa che ovviamente mi fa un gran piacere, eccetera. Ma non mi sento né musicista e neanche un, come si può dire, un membro dello spettacolo. Perché sei modesto. Ma sì, sono modesto, ma non lo so. Ma no, lo dico in maniera estremamente sincera. Ecco, io quello che mi sento io è questo. Sicuramente mi sento più, come si può dire, posso essere più portavoce appunto di quello che vivo con più, come si può dire, spendendoci più tempo che appunto è il lavoro del vignaiolo, contadino e quant'altro. Ma in qualsiasi caso, credo che i concerti in futuro saranno ancora più bramati, ovviamente, è una banalità, perché tutto questo distacco ci sta facendo rendere conto che effettivamente lo stare insieme e l'abbracciarci e il sudare, no? Anche se qualcuno, mamma mia, mi è capitato nella mia vita di incontrare qualcuno che dice, oddio, mi dà fastidio il sudore. Io dicevo, ma come è possibile? Cioè, come si dice, oddio, mi dà fastidio il mio braccio. Cioè, il sudore è una manifestazione di vita enorme. Vabbè, ma a parte questa divagazione, diciamo che secondo me tutte queste cose legate all'incontro ovviamente saranno ancora di più bramate, attese, ma anche perché ci siamo proprio resi conto che la tecnologia può aiutare, ma non risolve. Cioè, quando si parla di relazioni umane, stiamo parlando di una, come si può dire, di un materiale talmente complesso, no? Dalle miliardi di sfaccettature che non è che arriva una telecamera per risolverla. Gli odori che si mischiano ai suoni, che si mischiano ai colori, no? All'emotività. L'energia anche, no? Che si condivide in un concerto, tutti quanti assieme. L'energia, assolutamente. È proprio una celebrazione di vita che necessariamente attraverso una webcam non funziona niente proprio, ma proprio niente. Io qualcosa ho visto, non ho fatto niente come musica, perché preferisco fare dell'altro, ecco, sinceramente, in questo momento. Sì, perché è appunto una cosa diversa rispetto a quello che ti ho visto, sei abituato tu, insomma. Assolutamente. Mentre invece, anche se, come si può dire, ovviamente, guardandosi, io e te, Nicole, se fossimo davanti a un vino sotto a un noce, con un tavolo di marmo e due vecchie sedie, sicuramente sarebbe molto meglio per mille ragioni. Però, nonostante tutto, anche parlare così, tutto sommato, un po' ci si capisce, ci si riesce comunque a confrontare, ma con la musica e l'arte è tutta un'altra roba. Quindi, dai, speriamo di poter tornare proprio a vederla dal vivo. Assolutamente. Mi dispiace, tra l'altro, io sono, noi come Otaghi siamo stati anche molto fortunati, perché abbiamo fatto l'ultimo concerto al Palazzetto di Genova il 15 di febbraio. Dopo due settimane avrebbero chiuso tutto e per cui, insomma, siamo stati anche molto, molto fortunati. Però ci sono amici che stanno posticipando, annullando tour ed è una roba veramente molto, molto dura, anche perché c'è chi vive solo di musica. Assolutamente. Infatti è proprio un problema molto sentito, anche perché era proprio anche il periodo in cui iniziavano i tour, no? Tanti tour, tanti dischi in uscita con la primavera e quindi sicuramente è arrivata in un momento un po'. L'estate, perché di solito, tutta l'estate, insomma, ha un modo per raccimolare più denaro, no? E per cui... C'è Elena che ci dice che è un gusto ascoltarti, Maurizio, vediamo nei commenti. Vediamo un buon gusto, perché... Se avete qualche domanda per Maurizio, tranquillamente mettetela appunto nei commenti perché gliela facciamo live. Io ti chiedo anche proprio, anche se tu ti tiri un po' indietro da questa icona di artista, no? Però sei comunque una persona che scrive canzoni e quindi qualcosa da dire ce l'ha. C'è sempre un po' questa visione un po' poetica dell'artista che, chiuso in casa in questo momento, tra sudate carte sicuramente starà scrivendo, preparando, perché poi non si parla solo di scrittura o di musica, ma anche, non lo so, film. Ci si aspetta che tutti siano lì con grandi ispirazioni in questo momento. Secondo te è una visione molto naif? È davvero così? Momenti del genere sono davvero ispiranti? O magari tu in realtà appunto soffri la mancanza magari delle persone, del confronto e quindi ti sembra di avere meno storie da poter raccontare? Ma guarda, l'arte ovviamente è questa, come si può dire, questa cosa che cambia enormemente a seconda di chi la indossa e di chi la fa vivere, per cui io non so bene cosa rispondere. Quello che posso dire è che sicuramente per fare arte c'è bisogno di ispirazione e senza dubbio le relazioni sono portatrici e generatrici di ispirazioni, soprattutto per gente anche come me che scrive molto di persone, di appunto emozioni, di incontri. Certo è che personalmente questo momento di grande vuoto, anche se ovviamente c'è una tragedia in atto che è di dimensioni inimmaginabili e per cui sono sempre estremamente colpito e afflitto da quello che sta accadendo. Però ha anche delle cose belle, cioè il fatto di non avere impegni, di non avere appuntamenti appuntamenti è una cosa bellissima che non so quando mai ci potrà ricapitare, almeno io parlo per me, io comunque lavorando in cascina, ma comunque due, tre, quattro volte, cinque volte al mese sempre a Milano, comunque un po' anche perché sono molto felice, è chiaro, io la città la amo, ma invece adesso no, davanti a me ho un deserto che arriverà fino a non so quando ed è una cosa che in questo momento nella mia vita mi sta facendo tutto sommato bene e per cui ho anche più tempo di buttarmi al pianoforte e scrivere, però effettivamente non è che basta il tempo, no? Il tempo, come si può dire, è una grande possibilità, ma poi questo tempo deve essere anche, come si può dire, un imbuto, no? Di esperienze, di incontri, appunto, di parole, no? E io personalmente di parole ne sento poche perché sono in mezzo agli alberi e per cui insomma diciamo che mi manca, anche a livello proprio compositivo. Poi ci sono le melodie, no? E a volte le melodie vanno da sé, non frega niente degli esseri umani, no? Per cui ci sono, uno se ha la fortuna come fossimo veramente dei cercatori di funghi, uno va lì e la ricerca, no? E qualcosa di bello a volte trova, almeno nel mio caso, molto a volte. E per cui insomma diciamo che sì, è una visione secondo me un po' distorta, ma soprattutto un po' generalista che non credo che possa valere per tutti, come se bastasse il tempo per fare l'artista. Allora, insomma, non è assolutamente così. Sicuramente il tempo è una componente importante, ma poi serve tutto il resto, grazie a quale il tempo possa essere anche speso. Assolutamente, anche perché l'artista è comunque un essere umano e in questo momento ci siamo tutti trovati assolutamente anche un po' annichiliti in alcuni casi da questa, come dicevi tu, da questa tragedia che sta capitando, da questa mancanza anche di prospettive, no? Di avere appuntamenti, di sapere che cosa succederà tra qualche mese e questo sicuramente non aiuta a concentrarsi. No, anche perché se uno poi, io mi immagino fossi in città, no? Mi immagino chiuso nella mia casa, al quarto piano. Di che cosa cazzo potrei scrivere, sinceramente? Cioè mi verrebbero tutte canzoni tristi. Cioè, almeno per chi fa musica come me, no? Che è ovviamente sempre in grande empatia, almeno il più possibile verso l'esterno, no? Sicuramente scriverei delle cose un po' tristi, delle cose molto legate al sé, all'indagine del sé. Per carità, magari escirebbero anche delle grandi canzoni, ma comunque sarebbe una cosa molto circoscritta. Poi, di fatto, l'artista secondo me non è nient'altro che un Cristo che ha la capacità di tradurre, no? Delle esperienze in note, in tele, in forme, no? Ma se queste esperienze non ce le hai, che devi tradurle? Non so come dire. Mi dirai, anche l'esperienza di stare a casa chiusa è un'esperienza. Infatti, dico, probabilmente qualche cosa di buono legate appunto a questo momento uscirebbe, ma secondo me comunque ci ritroveremo comunque in un campo piuttosto limitato. Benissimo, io ti faccio l'ultima domanda, Maurizio, che stiamo facendo tutti i nostri ospiti. Cioè, stiamo un po' componendo una valigia metaforica, ipotetica, insomma, per partire in questo viaggio verso futuri possibili. Che cosa, secondo te, dobbiamo mettere in valigia e che cosa metteresti tu dopo questo periodo? Può essere un concetto, un oggetto, una parola? Beh, allora, è dura. Beh, sicuramente in una valigia ci metterai una bottiglia di vino. Vabbè, questa è una banalità. Ma è una banalità. So perché me lo aspettavo. Sì, pur sempre attuale, perché il vino ti permette di andare oltre. E c'è un gran bisogno di andare oltre. E questo diventa un pochino più serio, no? Quello che mi porterei dietro è questa grande consapevolezza che, anche se il mondo risulta così complesso, così, come si può dire, intaccabile nelle sue dinamiche a volte assurde e stupide, ma comunque la propria azione, no? La nostra azione singola rimane un'azione estremamente potente, anche per le nostre vite, per risultare credibili a noi stessi. Perché poi, quando uno parla, deve avere anche una sua credibilità, no? E deve in qualche modo crederci. E noi dobbiamo veramente incominciare a crederci un po' di più. Quando si parla di futuri possibili, di cambiamenti climatici, non possiamo pensare sempre a Chioto o al governatore di Turo. Dobbiamo farlo noi, sto cambiamento, nelle nostre vite. Sennò tutto il resto rimangono sempre parole che da sole fanno ben poco. Benissimo. Io chiedo alla nostra regia se ci sono delle domande, altrimenti ti lasciamo andare. Io tra l'altro non vedo un tubo, cioè vedo me, piccolissimo, te, grande, e poi va una cosa azzurra e non vedo interazione. Allora, secondina, chiede, è la tua passione come camminatore? Che magari in questo momento anche quella è una cosa che non si può fare. No, non si può fare. Però io, guarda, nella mia azienda ho la grande fortuna di camminare tantissimo. Io ho questa applicazione un po' stupida, ma pur sempre valida, che mi conta i passi, no? E io fondamentalmente mi sono reso conto di fare dai 10 ai 15 km al giorno. lavorando, cioè vado in vigna, vado a far legna, insomma. Per cui non posso dire di non camminare, ecco. Certo è che mi manca ovviamente il cammino, perché appunto il cammino è un bellissimo modo di viaggiare. Forse per me è il più bello, per quanto mi riguarda. La mia passione nasce proprio da quello, perché amo viaggiare e fare i viaggi brevi, no? Sono proprio un fautore di viaggi brevi. Per esempio sono andato a Milano a piedi, sono andato a Genova a piedi da casa mia, no? Le vacanze ci sono andato a Milano. La gente mi dice, ma sei scemo. In realtà da casa mia a Milano passi prima dall'appennino più selvaggio, per poi arrivare verso la pianura fatta di villette a schiera con cani piccoli incazzati dentro. Insomma, scopri molto anche di quello che abbiamo fatto finora, cioè passare la natura incontaminata a Voghera è un salto molto importante, no? E per cui la mia passione del cammino è una passione che deriva anche dal fatto che è una sorta di medicina, per me camminare, è una sorta di meditazione, è una sorta di tempo sospeso che mi serve per capire chi sono, cosa sto facendo e soprattutto dove vorrai andare. Ed è ovviamente una pratica che consiglio a tutti. E anche qui non ha impatto sull'ambiente se non è positivo. Allora, Elena chiede se hai un'opinione riguardo la scuola seneriana. Ritieni che la scuola dovrebbe essere più a contatto con la natura? Vabbè, chi l'ha chiesto questo? Elena. Elena, certamente Elena. Caspita. Io, quando ho studiato poco nella vita, ma quello che ho studiato mi ricordo benissimo questo Frebel in giardini dell'infanzia, mi pare si chiamasse il suo progetto russo, mi pare fosse dell'Ottocento, che fondamentalmente faceva, aveva questi alunni nel bosco e anzi in questi giardini a fianco alle scuole. Per me sì. Poi stai parlando con uno che ha trovato la sua religione lì, no? Io sono molto spirituale, molto fedele, molto religioso nella natura. Io lì ci trovo la tecnologia, i colori, i profumi, eccetera, 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 la vita, la morte. Per cui non posso che essere assolutamente a favore. Anzi, io se mai avrò un figlio cercherò di, come si può dire, portarlo il più spesso possibile in ambienti naturali. poi sarà lui ovviamente a decidere se continuare a farlo, ma comunque io lo metterò in condizione a meno di vedere questa via, sperando che possa coglierla. Benissimo, io ti ringrazio tantissimo Maurizio per quello che ci ha raccontato e per essere stato con noi oggi. Grazie ancora e buon lavoro, un bocca al lupo per la tua vigna, il tuo vino e tutte le cose che fai e anche per gli Exotago, ovviamente. Alla grande, grazie. Ciao. Grazie a te, a presto.